Musica Buonasera a tutti i telespettatori di Venti d'Ingrandimento Buonasera come sempre al nostro ospite il sindaco di Napoli Luigi De Magistris Buonasera Buonasera sindaco, si lavora in maniera serrata per cercare di arginare la movida violenta a correre ai ripari una situazione che richiede l'impegno di tutte le istituzioni, forze dell'ordine ma anche e soprattutto coloro che vivono la movida e anche poi gli esercizi commerciali e tutto quanto insieme forse può portare a una soluzione Sì, chiariamo subito, almeno questa è la mia opinione quello che è accaduto l'altra notte, un fatto gravissimo non è nulla di equiparabile alla vita notturna che alcune persone vogliono fare senza nuocere a nessuno quello è un fatto criminale, uno scontro tra baby gang con l'utilizzo di pistole e coltelli quindi è un fatto di un far west cittadino gravissimo che va affrontato con gli strumenti che la legge prevede cioè magistratura e forze di polizia, controllo del territorio poi c'è il tema della movida io l'ho detto più volte anche qui a Televomero con chiarezza, noi stiamo facendo la nostra parte io dico anche di più perché l'ordinanza che ho firmato non era obbligatoria non è affatto scontata è un'ordinanza che può aiutare forze dell'ordine che può aiutare chi deve controllare il territorio che va nella direzione giusta che la posso anche ulteriormente rivedere e migliorare ma quello che ho sempre detto sin dall'inizio sin dall'inizio che il tema dei fatti criminali attiene soprattutto a un maggior controllo del territorio da parte delle forze di polizia allora questo che vuol dire? che il sindaco sta scaricando su altri? no, perché noi siamo molto compatti domani c'è un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica siamo tutti uniti semplicemente io sono uno dei pochi che da tempo dice che le forze di polizia non hanno, così come la polizia municipale, mezzi economici risorse umane e mezzi materiali per poter rafforzare queste attività io lo dico, altri non lo dicono insieme a me se tutti evidentemente portassimo questa voce al Viminale, al Ministero dell'Interno, al Governo sia nelle manovre del bilancio che noi non possiamo manco utilizzare lo straordinario per pagare le forze di polizia perché ai comuni è vietato le forze di polizia non hanno le pattuglie a sufficienza per fare i controlli notturni allora gira, gira, gira e le persone poi alla fine vengono a chiedere al Sindaco bene, venite a chiedere al Sindaco ma il Sindaco in Italia non è il coordinatore delle forze di polizia se un domani in questo paese mi capiterà di fare, come dire, altro funzione all'interno dello Stato probabilmente fare sicuramente diversamente di quelli che hanno fatto finora che trovano i soldi per le banche e poi non trovano i soldi per mettere in sicurezza il paese comunque c'è massima attenzione anche da parte delle forze dell'ordine assolutamente sì, attenzione è stato un tavolo tecnico in prefettura poi domani ci sarà un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperà anche lei abbiamo raccolto le testimonianze del prefetto del questore e del comandante dei carabinieri come si è detto ed è stato sottolineato da più parti la Movida in sé è un fenomeno complesso e articolato che va quindi approcciato da più parti a più attori istituzionali pure che entrano in gioco e quindi giovedì mattina noi abbiamo già in previsione un ulteriore comitato con la partecipazione del sindaco di Napoli i servizi saranno ulteriormente rafforzati saranno visibili, saranno efficaci e sicuramente mireranno a un controllo selettivo di tutti i giovani che affluiranno in quell'area con controllo motorini sarà un servizio noi riteniamo efficace e performante ma il coordinamento c'è sempre e ci sarà sempre per tutte le attività che riguardano sia la prevenzione anche eventualmente la repressione allora dalle parole del prefetto del questore del comandante dei carabinieri si evince che nel prossimo weekend ci saranno più forze dell'ordine a disposizione in queste zone poi c'è tutta quanta la polemica sulle parole del questore che ha utilizzato per descrivere queste bande criminali che si fronteggiano e qui è scaturita una polemica su questa vicenda che c'è da dire io almeno sono un paio d'anni un anno e mezzo che sto dicendo che ci vuole più controllo delle forze di polizia un controllo visibile sono contrario alla militarizzazione sono contrario a prove di forza muscolari da sempre vedete quello che è successo a Torino ma non dimentichiamoci ricordate a Torino che cosa è successo lo scontro tra forze di polizia e frequentatori della Movida con immagini di ordine pubblico io credo che c'è bisogno di tanta presenza delle forze di polizia visibile da un lato come dice il questore ma anche discreta dall'altra in modo da fare anche investigazione perché se come qualcuno ritiene ci sono persone che vanno là per fare spaccio a altre attività criminali io ho fatto il pubblico ministero ci vuole investigazione non ci vuole solo controllo del territorio ci vuole investigazione bisogna capire se c'è gente che utilizza la Movida per spacciare droga c'è gente che utilizza quei luoghi per fare altri reati questo è il tema questo paese vuole investire in questo vuole investire in altro io lo sto dicendo da una vita poi siccome non mi tiro indietro perché io potrei semplicemente dire il comune quello che ha più di questo non può fare certo non può chiudere i negozi né può chiudere le strade quindi non può fare cose che non sono ragionevoli il comune si siede a quei tavoli dà il suo contributo anche di più abbiamo fatto un'ordinanza che consente alle forze di polizia di intervenire anche nei confronti di chi non rispetta regole in alcuni casi addirittura di chiudere i locali in alcuni casi addirittura di non vendere le bottiglie di vetro per esempio alcolico qualcuno dice sindaco però lo dovresti fare non da mezzanotte lo dovresti fare dalle 10 di sera io ti rispondo molto semplicemente che abbiamo la prova che quando chiudi prima vanno nei supermercati riempiono il portabagaglie e si portano una vagonata e birra e consumano ci sono anche i supermercati aperti anche 24 sindaco metti qualche altra strada bene non ho problemi a giungere qualche altra strada piazza San Domenico Maggiore che io l'aggiungo nell'ordinanza piazza San Domenico Maggiore a piazza San Domenico Maggiore c'è la cosiddetta movita chiamiamolo l'assembramento di persone con i negozi chiusi perché la chiudono a mezzanotte quindi voglio dire se qualcuno pensa che c'è uno strumento che come dire impedisca la movita dice proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra se qualcuno pensa che ci stanno degli strumenti per prevenire i reati e reprimerli come dice Obaldo del Monaco il comandante provinciale sono d'accordo con lui certo che ci sono sono le forze dello Stato quali sono le forze dello Stato? sono le forze di polizia e se le forze di polizia individuano i reati esiste un'altra forza dello Stato che si chiama la magistratura che coordina le indagini che può arrestare i responsabili li porta davanti alla giustizia però qui ci potrebbe anche la certezza della pena sì la certezza della pena possiamo aprire un dibattito però questo lo dico perché non sfugge a nessuno anche che mentre noi cerchiamo concretamente di affrontare il tema tant'è vero che il prefetto l'ha detto alle vostre telecamere domani mattina presto ci riuniamo e facciamo il comitato mentre c'è chi affronta questi temi con la testa sul collo cercando di trovare punti di equilibrio tra posizioni molto diverse c'è chi per esempio si sveglia una mattina anzi ancora prima la sera tardi mette un titolo del giornale Napoli emergenza nazionale ma di che parliamo si può mai considerare un'emergenza nazionale uno scontro tra due baby gang allora se consideriamo questa un'emergenza nazionale a Camorra che cos'è o la mafia o l'Andran cioè bisogna anche avere la testa sul collo ma sicuramente è un problema inquietante e complesso di risoluzione e a questo proposito abbiamo raccolto anche l'intervista del capo della polizia di stato Franco Gabrielli che oggi era a Napoli per una manifestazione dei 110 anni della polizia ferroviaria a Pietrarsa e dice da solo la repressione non basta ascoltiamo io credo che il soddisfacimento di una pretesa punitiva è una modalità con la quale si interviene sugli effetti non sulle cause è ovvio che è molto più facile sbattere la gente in galera che non costruire percorsi perché la gente ci finisca sempre meno e quindi chiaramente siamo tutti d'accordo non bisogna soltanto reprimere ma bisogna far sì che questo non accada andando indietro ma come si fa a non essere d'accordo ve lo dice uno che per 15 anni ha fatto il pubblico ministero quindi agito sull'aspetto repressivo oggi fa il sindaco e cerca come di agire ad ogni livello ma vi dico una cosa in più che io sono profondamente preoccupato non solo di quello che è accaduto l'altro giorno ma nel fatto di constatare l'età media di chi commette questi reali oggi abbiamo a Napoli come a Milano a Torino come a Palermo persone che delinquono a 11 anni 12 anni con pistole e coltelli allora quando la situazione è questa non è che c'è una persona che è responsabile di questo non è che ci sa che è responsabile non so la magistratura le forze e l'ordine i giornalisti la politica gli amministratori c'è una responsabilità generale cioè se si arriva che persone a 11-12 anni escono dalla propria famiglia allora la prima responsabilità la dovremmo scrivere alle famiglie alla scuola e manco è giusto scaricare tutto sulle famiglie è un tema che investe la collettività quindi noi ci dobbiamo interrogare quindi alcune misure sanzionatorie le dobbiamo adottare il divieto di vendere alcolici ai minori non far consumare alcol nelle ore sera tutta una serie di misure le adotteremo ma se quelli escono con un coltello non solo nei luoghi della Movida ma anche in altri posti di pomeriggio e hanno 11-12 anni una volta individuati non basta manco come giustamente dice Gabrielli il capo della polizia la magistratura le forze e l'ordine perché quelli in galera a 11 anni non vai non sei addirittura punibile quindi vai dagli operatori sociali poi c'è il tema delle famiglie poi c'è il tema del degrado poi c'è il tema del messaggio educativo che certe volte non sempre dai mass media è una situazione assolutamente complessa addirittura certe volte il frasario della camorra viene utilizzato come un frasario quasi divertente parli con quel napoletanesco camorristico che vedo in questi giorni quasi come processo emulativo c'è tutto un insieme di cose su cui dobbiamo ragionare noi cerchiamo di fare il massimo anche e chiudo cercando di essere punti di riferimento io credo che in questo paese certe volte mancano i punti di riferimento ed ecco che per esempio chi fa politica chi amministra una città è giusto che dia l'esempio che sia un punto di riferimento che sia sempre sul pezzo che sia una persona onesta che non si giri dall'altra parte che non scarichi su altre responsabilità e noi lo facciamo però cerchiamo di avere tutti la testa sul collo perché c'è anche un poch'ipo in queste cose come al solito la vuole mettere in caciara la vuole mettere in politica la vuole mettere per attaccare l'avversario politico allora così non si va da nessuna parte per chiudere sulla movida bisogna comunque non criminalizzare la sana movida che è un momento di aggregazione assolutamente legittimo e auspicabile anche per il futuro insomma anche questo perché vogliamo vedere come era Napoli magari senza una persona per strada è più sicura certo che no perché tutti i turisti che vengono ci dicono per esempio che Napoli a loro appare sicura io dico ma com'è che appare sicura se tutti ci dicono che è un'emergenza nazionale e dico perché venite nelle nostre città ci dicono loro dove non puoi nemmeno uscire per strada che ti rapinano ti violentano ti fanno altro eppure questo non esce nei media nazionali quindi è tutto molto relativo noi dobbiamo affrontare il problema non sottovalutarlo ma attenzione perché come ha detto lei giustamente se una città arretra e non fa un concerto perché a qualcuno magari dà fastidio la musica o non c'è un intrattenimento serale o gli imprenditori non investono più perché i locali magari te li vogliono far chiudere alle 10 di sera non so che città stiamo delineando una città dove ci chiudiamo tutti quanti in casa allora significa che chi non servirebbe a renderla secondo il mio punto di vista più sicura assolutamente certo c'è anche il diritto perché se no se no un completo qualcuno dice il sindaco c'è anche il diritto chiaramente di chi vuole riposare ecco perché ci vuole il punto di equilibrio la sintesi non è facile non è facile no è complicata assai molto complicata cambiamo argomento certamente non meno semplice anche questo della viabilità cittadina galleria laziale chiusa sindaco questa mattina doveva essere in vigore il senso il doppio senso di marcia nella galleria a quattro giornate per evitare che i napoletani fossero costretti a girare a fare percorsi molto più lunghi per arrivare in tipo posilli nella zona centrale da posillipo e fuori grutta e così invece non è stato tutto pronto asfaltata la pista ciclabile tolta in New Jersey segnaletica verticale orizzontale ma il doppio senso di marcia non c'è stato abbiamo raccolto l'indicazione degli automobilisti questo non glielo so dire perché queste sono responsabilità che si prendono gli uffici tecnici della mobilità insieme all'assessorato competente io quello che posso dire è che sono impegnato fortemente domani mattina faremo una riunione perché la galleria laziale apra immediatamente e io ritengo che tra massimo lunedì ma io mi auguro domani di poter dare una buona notizia ai nostri concittadini addirittura sabato mattina potremmo aprire la galleria laziale e questo è un risultato incredibile che siamo riusciti ad ottenere detto questo se apre sabato e noi poi abbiamo bisogno di un'altra sessantina di giorni di lavori importanti che si devono fare sulla galleria cosiddetta laziale ma anche poi dopo sull'altra galleria che saranno tutte e due riqualificate la quattro giornate sì se i lavori sono solo notturni io mi sono permesso di suggerire non da tecnico ma da persona di buon senso che forse si potrebbe a questo punto anche evitare di fare il doppio senso di marcia quindi senza andare a modificare più di tanto perché tanto la chiusura sarebbe solo notturna e sarebbero esclusi i festivi e i prefestivi quindi questo potrebbe oppure l'altra alternativa è quella che appunto gli uffici di mobilità hanno inizialmente proposto che dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore che è quello del doppio senso di marcia nella galleria vittoria e non nella galleria chiaramente laziale oggi però l'obiettivo principale se me lo consentite è quello di raggiungere questo risultato di cui domani ne avremo la certezza galleria cosiddetta laziale che apre sabato di fronte ai 30 giorni siamo riusciti a farlo praticamente in meno di 10 giorni quindi signora mi perdoni ma in qualche modo allora si poteva evitare insomma che la galleria laziale fosse tolta dalla galleria 4 giornate la pista ciclabile visto che si tratta di aspettare poche ore insomma ma quello è un tema allora il tema del doppio senso è stato posto in prefettura comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica al quale io quel giorno non ho partecipato è stato posto il tema per ragioni di sicurezza e di viabilità di aprire un doppio senso di marcia che ha una sua logica cioè l'hanno proposto in tanti ovviamente la pista ciclabile solamente per 60 giorni sarebbe stata diciamo non eliminata chiamiamola sospesa ma con la possibilità comunque di percorrere la galleria io vi sto dicendo lei mi chiede alla sua opinione non di tecnico diciamo che cosa farebbe per quanto mi riguarda se e l'ho detto anche oggi a chi ha la competenza tecnica a fare queste operazioni che se dovesse essere confermata l'apertura della galleria laziale sabato mattina io personalmente il doppio senso di marcia solamente per la notte io personalmente non lo farei se ci sono delle ragioni tecniche perché poi è come la potatura degli alberi se lei mi chiede ma lei fa piacere che vanno a potare in modo così pesante tutti gli alberi poniamo di via Scarlatti che stiamo qua vicino io gli dico no però se c'è un tecnico che ti dice no ma lo devi fare per forza perché quegli alberi come stanno possono crollare da un momento all'altro a primo spirare di vento allora tu ti devi piegare e devi dire se te lo dice un tecnico te lo certifico quindi vediamo un attimo che cosa accade domani io credo che nel momento in cui la galleria laziale apre tutti i problemi si comunque in qualche modo rientrano e anzi diciamo anche un'altra cosa ai concittadini ai telespettatori Televomero che noi con i soldi che abbiamo messo in campo sistemeremo completamente non solo la galleria laziale ma dopo anche l'altra galleria con lavori che attengono anche non solo alla messa in sicurezza ma alla illuminazione alla ventilazione più forte e quindi anche chi andrà in bicicletta dopo questi 60 giorni avrà sofferto un poco in questi 60 giorni ma dopo finalmente avrà non solo una pista ciclabile come quella di prima anzi spero migliore ma anche condizioni di sicurezza di illuminazione e di ventilazione migliore e parlando di sofferenza certamente i conti rosso della comune fanno molto soffrire Palazzo San Giacomo in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De Mangisvis in consiglio comunale si è discussa della difficile situazione economica questo è un punto di non ritorno se non arriva una risposta sufficientemente forte è la tenuta democratica del paese che viene meno e chi non lo farà si assumerà la responsabilità politica di un conflitto sociale senza precedenti e di questo ve lo dico qua e ve lo certifico se non arriva una risposta esploderà nel paese un conflitto sociale di dimensioni catastrofiche perché quando intere città non sono in grado di garantire diritti la gente non ce la fa più allora sindaco lei in consiglio comunale in maniera molto concitata insomma non l'ha mandata a dire insomma non ha usato mezzi termini in una situazione assolutamente preoccupante ha chiesto quindi in qualche modo anche l'aiuto dei consiglieri presenti maggioranza opposizione in maniera trasversale perché si viaggi tutti nella stessa direzione evitare il dissesto del comune di Napoli ma non è il dissesto del comune di Napoli noi non andremo in dissesto anche se non dovessero fare nulla io là ho parlato come vicepresidente del Lanci ho lanciato un grido di dolore e un allarme non sono uno che come dire drammatizza mai le situazioni l'ha detto prima qua viviamo sofferenze quotidiane io veramente non so come noi arriviamo ogni giorno facciamo nottate su nottate serate su serate pomeriggi su pomeriggi mattine su mattina la domenica non esiste cioè è una fatica enorme l'ha detto lei prima è una sofferenza dopo sei anni e mezzo di attività di sindaco dopo aver conosciuto tutti i drammi i conflitti ma anche le speranze le opportunità e le gioie dopo aver parlato con tutti i sindaci d'Italia ho il dovere di dire a un Parlamento e a un governo che stanno varando l'ultima manovra di bilancio prima della fine della legislatura di finalmente pensare ai cittadini ai diritti alla messa in sicurezza ai servizi sociali alle fragilità ai trasporti al verde all'ambiente voi siete irresponsabili chiedete la luna chiedete soldi state chiedendo i miliardi che danno alle banche state chiedendo i milioni che danno per comprare armi di istruzione di massa no perché lo sappiamo che non lo faranno mai stiamo chiedendo toglieteci almeno le gabbie normative i vincoli finanziari consentite ai comuni che lo possono fare di investire di far scorrere le graduatorie di assumere personale di poter comprare mezzi per mettere la polizia municipale di notte per poter comprare attrezzature per fare messa in sicurezza degli alberi a Parco Mascagna che è chiuso e potrei continuare fino a stanotte ma come ragiono io ragione il mio collega di Messina che ha la stessa situazione che addirittura non ha fatto partire la refezione lo stesso fa il collega di Reggio lo stesso fa Torino lo stesso fa Milano che pure hanno avuto leggi speciali Torino ha avuto la legge speciale la legge speciale chiedo scusa un provvedimento ad hoc sul trasporto pubblico 50 milioni cash Milano ha avuto l'Expo Roma due leggi speciali ne stanno scrivendo una allora se non mi arrabbio io che ho una pazienza di Giombe anzi Giombe sembra quasi un dilettante di fronte alla pazienza che noi attualmente teniamo perché se esplodiamo noi vuol dire che comprendiamo che c'è una situazione pericolosa perché voi mi chiedete la movida e io potrei rispondere che per esempio la polizia municipale io la notte non la potrei mettere su Bagnoli poniamo e su Agnello Falcone perché il governo ci dice tu non puoi siccome i comuni non possono non puoi pagare lo straordinario non puoi scorrere il gradatore non hai perso io sapete che ho fatto nell'ordinanza sempre andate a legge l'ultimo periodo ordino alla polizia municipale d'intesa con le altre forze dell'ordine di garantire anche nelle ore notturne i servizi di mobilità mi assumo delle responsabilità ma dove potremmo arrivare quando finirà questa storia ecco perché non è che mi sono arrabbiato è la passione è la condizione è particolarmente concitato è preoccupato chiaramente si capiva le sue parole poi bisogna ascoltarle in integrale io sono fiducioso le notizie che arrivano da Roma sono di grande attenzione di grande sensibilità tutte le forze parlamentari ci dicono che abbiamo ragione il governo ci dice che abbiamo ragione io ho paura perché ha ragione spesso si dà le persone si dice hai ragione ti chiede ragione è preoccupante quando ci si dà troppa ragione vediamo che arriva ma a Napoli per il giuramento degli allievi dell'Annunziatella c'è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lei ha visto privatamente in prefettura ma onestamente gli ha detto presidente dacci una mano stiamo proprio nei guai io non ho mai parlato di vicende come dire legate solo a un territorio innanzitutto voglio ringraziare il presidente della Repubblica che ancora una volta ha mostrato sensibilità istituzionale e attenzione per la città ha ritenuto di incontrarmi in una giornata in cui i tempi del presidente erano ristrettissimi perché doveva venire solo per l'inaugurazione della cerimonia per il 230esimo anno dell'Annunziatella al presidente ho detto ovviamente con modalità toni e riflessioni diverse dall'intervento in Consiglio Comunale che sono davvero preoccupato perché se non arriva un segnale forte da parte del Parlamento e del Governo c'è il rischio di non poter garantire diritti e servizi c'è un rischio per la coesione democratica del nostro paese e ho detto al presidente ad esempio che invece puntare sui territori investire sui nostri concittadini dare forza agli amministratori che sono altoparlanti dei diritti e dei bisogni significa probabilmente far ripartire un paese più forte e più unito nelle sue diversità quindi l'ho voluto fare perché io sono molto fiducioso sempre che dall'interno delle istituzioni poi alla fine dei segnali possono arrivare ecco perché il presidente della Repubblica ha mostrato diciamo grande sensibilità ad ascoltarmi le forze parlamentari le abbiamo incontrate tutte e hanno detto che sosterranno questa lotta non di De Magistris o di Appendino o di Accorinti ma dei sindaci e dei territori che sono uniti nella loro diversità il governo ha detto che le nostre proposte sono ragionevoli però da quanti giorni stiamo parlando ma speriamo che domani è il giorno buono dopo domani lunedì martedì il tempo passa velocemente i comuni soffrono sempre di più l'ossigeno della sala di rianimazione si consuma sempre di più noi almeno almeno non dica assai ma almeno passare dalla sala di rianimazione alla terapia intensiva sufficiente almeno mandateci in barella nei corridoi cioè almeno possiamo incominciare a muoverci il verdetto della Corte dei Conti quando dovrebbe arrivare dicembre non so i tempi dipendono io mi auguro ecco anche perché poi avete fatto anche ricorso sarebbe sì abbiamo fatto ricorso perché siamo convinti di avere ragione fondatamente una previsione sui tempi ma io ritengo ecco non dipende da me in entrambe le cose la manovra economica e la Corte dei Conti io penso che entro Natale si possono avere due risultati importanti mi auguro che il nostro ricorso venga accolto dalle sezioni riunite a Roma della Corte dei Conti come mi auguro che il Parlamento dia una risposta se queste due cose avvengono beh sarebbe un segnale davvero importante per la città ma non solo per la nostra città noi abbiamo fatto un lavoro enorme voglio su questo chiudere rassicurando i concittadini davvero abbiamo fatto tutti i passi necessari politici istituzionali non abbiamo risparmiato nulla quindi siamo convinti che è stato fatto tutto per rafforzare ancora di più la nostra città e quando si lavora così con così grande forza determinazione passione i risultati arrivano quindi io mi sento fiducioso che alla fine portiamo a casa dei risultati sicuramente buoni per la nostra città lei ha detto a Natale avremo queste notizie speriamo che siano buone entro Natale parlando di Natale non si può non parlare di San Gregorio Armeno un quotidiano inglese ha inserito Napoli tra le città dove almeno una volta tra le dieci città d'Europa che almeno una volta nella vita bisogna trascorrere il Natale intanto i commercianti residenti di San Gregorio Armeno chiedono dei correttivi per far sì che questi weekend che chiaramente più andiamo a ridosso del Natale più saranno affollati possano essere veramente diciamo un mezzo per valorizzare ancora di più questa zona intanto vediamo la scheda di San Gregorio Armeno a Grazie a tutti. Allora ringraziamo come sempre Giulio Tamaro e Ciro Variale per le schede, sempre curate molto belle, immagini che sicuramente ci fanno capire come anche il quotidiano inglese abbia apprezzato la bellezza di San Gregorio Armeno. Già il weekend scorso, siamo lontani dal Natale, è stato un caos, quindi si chiede un maggiore impegno, una maggiore presenza anche per la sicurezza di forze dell'ordine e non solo. Innanzitutto bello che The Guardian abbia detto che tra le dieci città del mondo da visitare ci sia Napoli, unica città italiana. Innanzitutto bella immagine, partiamo da questo dato, un minimo di sofferenza e meno, una bella immagine che ottobre e novembre, mesi tendenzialmente come ricordava lei, non certo quelli più significativi dal punto di vista turistico e culturale, Napoli è piena. Quindi noi abbiamo pieno la città di turisti, di iniziative culturali, quindi economia che va bene. Sicuramente ci vuole una regolamentazione importante, forte, io davvero colgo la sua domanda per ribadire anche pubblicamente quello che ho detto agli assessori, a tutti, bisogna lavorare bene da subito, non aspettare il ponte dell'Immacolata, bene con la protezione civile, con la polizia municipale, col personale, con i volontari. Si deve fare un lavoro importante, bisogna stare tutti quanti fortemente sul pezzo che Napoli vive un momento difficile, ma anche un momento straordinariamente bello per la sua città, di tantissime opportunità. Quindi bisogna lavorare coesi, compatti, chiedendo la collaborazione chiaramente anche dei commercianti, dei cittadini e sono convinto che verrà, perché anche il senso civico in questa città sta aumentando molto, non è solo l'immagine. Quindi la protezione civile in qualche modo vi potrà dare un mano, soprattutto nei weekend. Se la dà, se la darà, noi abbiamo investito sulla protezione civile, sia come sindaco di Napoli che come sindaco della città metropolitana, abbiamo messo risorse, abbiamo messo mezzi, bisogna che tutti lavorino con la determinazione, la passione e l'entusiasmo con cui mi state vedendo stasera a Televomero. Se qualcuno è un po' depresso, arrivederci, ci stanno altre città per i depressi. Napoli non ha bisogno di depressione, ha bisogno di impegno, di determinazione, di volontà, di coraggio e di entusiasmo, perché questa città si porta avanti solo in questo modo. Quindi insomma sarà un Natale fiducioso in tutto sommato? Io sono fiducioso, io penso che trascorreremo un Natale, lavorando purtroppo, come sempre, per fortuna, però io penso che avremo buone notizie per la città. Io devo dirle la verità, sono fiducioso e in genere non mi sbaglio. Dal Natale si passa al Capodanno, lo faremo in piazza, sindaco? Scusa, il Capodanno lo faremo, lo faremo in piazza, lo faremo bello, stiamo lavorando, risolviamo tutto, il Capodanno lo faremo, l'illuminare lo faremo, il Natale verrà, viene il 25 dicembre, il Capodanno sarà il primo gennaio, l'ultimo dell'anno è il 31 dicembre, l'epifania, se non ricordo male, il 6 gennaio. Quindi queste date le dovremmo avere. Da queste date non si può prescindere. Si dovremmo stare. E vabbè, con questa cerchiamo sempre anche di alleggerire un po' l'attenzione, perché è giusto che sia così, la leggerezza fa parte della vita, lo dico tante volte, non è assolutamente superficialità. Sindaco, noi la ringraziamo e aspettiamo buone notizie per la prossima settimana. Si, aspettiamo buone notizie, io credo che è questione di ore, cioè nel senso credo che tra questa settimana e la prossima noi capiremo il livello di attenzione che il governo e il Parlamento hanno preso. Sono fiducioso e comunque voglio, anche un'altra volta in conclusione, rassicurare con i cittadini che sì, le sofferenze sono tante, però c'è chi se le sta mettendo sulle spalle, le sta portando avanti. La città non rischia un ritorno al passato. Anzi, noi vogliamo e perciò mi arrabbio certe volte, perché so la potenzialità, so le ingiustizie che stiamo vivendo e so che basterebbe davvero poco per farci avere una mobilità migliore, trasporti migliori, servizi migliori e su quello io sto lavorando senza sosta, soprattutto negli ultimi mesi. Sindaco, noi la ringraziamo questa settimana, non abbiamo trattato il tema dei trasporti, lo faremo sicuramente la prossima settimana, altro nodo doloroso della nostra città. Grazie a tutti per averci seguito, vi ricordo l'indirizzo mail cui potete continuare a scrivere, redazione chiocciolatelevomero.it. Buonasera Sindaco, buonasera a voi, arrivederci. Buonasera Sindaco, buonasera a voi, arrivederci.